Il silenzio è l'unica risposta che si può dare a chi cerca scandalo e divisione. Così Papa Francesco questa mattina in Vaticano dove tengono banco le accuse dell'ex nunzio degli Stati Uniti. Ascoltiamo Enzo Romeo. Chi ha orecchi per intendere intenda, dice Gesù nel Vangelo. La stessa massima vale per le parole che sta adoperando Papa Francesco dopo le accuse dell'arcivescovo Viganò, ex nunzio negli Stati Uniti. L'ultima riguarda l'incontro che ebbe Bergoglio nel 2015 a Filadelfia con Kim Davis, cancelliera di tribunale finita in carcere per essersi rifiutata di firmare atti matrimoniali di coppie gay. Francesco le strinse la mano senza sapere esattamente chi fosse. Viganò sostiene che l'incontro era stato preparato da lui e che il pontefice era al corrente. Contro smentita dell'ex portavoce della Santa Sede, padre Lombardi, sulla Davis il Vaticano non era stato informato a sufficienza. Stamane, nella prima messa celebrata a Santa Marta dopo la pausa estiva, Bergoglio ha detto che con le persone che cercano soltanto lo scandalo e la divisione, l'unica strada da percorrere è quella del silenzio e della preghiera. Il diavolo semina il dubbio, trasforma la pace in guerra, lo stupore in sdegno. E il commento al Vangelo del giorno, a chi lo scaccia da Nazareth, Gesù risponde col silenzio. La verità è mite, non fa rumore, afferma Francesco, chi ha orecchi per intendere.